La linea Pulse P16 di P4 richiama le forme della celebre Pulse, reinventandole in chiave più casual e informale, con l'accostamento di diverse texture in pelle e tessuto. Si riconosce per l'alternanza di morbida pelle di vitello e tessuto, dalla texture opaca e resistente all'acqua. Soprattutto grazie alla selezione di tonalità scure come il nuovo colore Shea Blue, un blu scuro, il gioco di materiali risulta particolarmente elegante. Lo stile casual viene abbinato a accessori high-tech, come il sistema di localizzazione con Nequeu. Ogni borsa P4 Pulse P16 è un dotata del necessario, per custodire con cura tutti gli accessori e gli strumenti di ogni giorno. Stessa cosa vale per le agende, i portablocchi e tutti gli accessori di piccola pelletteria, che completano la collezione. Per ulteriori informazioni e approfondimenti seguici sul nostro magazine blog.scaliagruppo.com Grazie a tutti.